Salve a tutti! Mi piacciono sangue, violenza, perversioni... In una tempestosa notte di Halloween, quattro ragazzi attraversano una strada della provincia americana. Quella chi è? Un autostoppista. Ci fermiamo. Non possiamo lasciarla sotto la pioggia. Alla ricerca di un essere misterioso, conosciuto come... Dottor Satana. Conosci la leggenda del Dottor Satana? Sì, posso farvelo vedere. Dottor Satana! Dottor Satana! E sono coinvolti. Non avete ancora visto niente? Nella più sconvolgente e raccapricciante carnificina mai vista. Scommetto che ti butteresti nel fuoco pur di vedere il diavolo. Conosce questa ragazza? Indagavano per gioco su una leggenda locale, quella del Dottor Satana. Che stupidi! Come hanno fatto a perdersi fuori da questo inferno? Aiuto! Il male esiste. Oh mio Dio! E voi l'avete trovato? Inizia lo show! Ti prego, non ammazzarci. Una nuova casa. Un nuovo viaggio verso l'inferno. Non può essere vero. Non può essere vero. La casa dei millecorpi. Ti piace quello che vedi? Mi? No! 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 Grazie a tutti.